Bene, prima di entrare nell'argomento, ovviamente vorrei chiamare però sul palco gli ospiti, quindi la bandiera della Fiorentina, da definirei così, Giancarlo Antonioni, e i giocatori Federico Ceccherini, Luis Muriel e Alban Lafonte. Ciao, 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 io preferisco stare di qua perché lui è al palco, altissimo, perfetto, bene, come ben sapete appunto siamo diventati sport, siamo appunto exclusive digital partner della Fiorentina, verrà poi domani ovviamente trattato l'argomento nell'area digital, nell'intervento digital, ma questo ci dà una grossa opportunità ovviamente di essere sempre in vista nell'area tecnica, nel reparto tecnico, quindi durante gli allenamenti, durante la settimana, su cartelloni pubblicitari e così via, ma ci dà un qualcosa in più che è effettivamente quello di poter essere, di poter portare allo stadio i nostri clienti, dove lì si crea un feeling veramente particolare, oramai sono due mesi che andiamo allo stadio con i nostri clienti e vediamo che siccome non è la consegna di un biglietto, ma stiamo con loro 5, 6, 8 ore a volte, dipende da cosa facciamo, se il pranzo, se la scena, dipende se facciamo walkabout, andiamo a vedere a volte gli spogliatoi, comunque andiamo a vedere in campo la fase del riscaldamento, quindi è un qualcosa che effettivamente, poi stiamo al tavolo con loro, al pranzo, alla scena, si crea un feeling veramente particolare, vi posso garantire che il cliente quando va via con noi ha un rapporto e una visibilità soprattutto totalmente diversa, per cui io vi chiedo ancora di più, a parte abbiamo un overbooking, per cui vi chiedo però ancora di più di portare i vostri clienti allo stadio. Bene, a questo punto però la prima domanda, Giancarlo ritieni che la tecnologia, tutta questa tecnologia, partendo dalla VAR, fino a quello che può essere la linea di porta, la webcam sulla linea di porta, fino al collegamento fra arbitro, quarto uomo e giudice di linea, ritieni sia uno strumento che possa veramente aiutare il mondo del calcio, oppure crea ancora di più problemi? Buonasera a tutti, grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui insieme a voi, abbiamo qua i rappresentanti nostri della Fiorentina, diciamo un po' la spina dorsale della squadra, il portiere, cioè il portiere lui, difensore centrale e punta, devo dire che, vari complimenti a Luis, visto che è appena entrato e ha subito dimostrato... è un fuoriscena, io ho fatto il difensore per sbagliati anni e o ti avrei preso su quei due gol o se no qualcosa avrei fatto, non ti avrei fatto andare in porta. E quindi si fa piacere essere qui insieme a voi e abbiamo così accettato benissimo questo invito. La tecnologia serve molto oggi, praticamente è tutto tecnologico, ai miei tempi era diverso purtroppo, se forse c'era la tecnologia, il famoso VAR, il VAR, visto che poi parliamo di VAR questa sera, il VAR, forse uno scudetto almeno l'avrei potuto vincere. A questo non ci avevo pensato. Però questo non è successo e mi rammario un pochino, comunque devo dire che la tecnologia oggi serve, soprattutto nel calcio che vanno talmente veloci che è anche difficile per l'arbitro poter dare un giudizio obiettivo e quindi la tecnologia serve. Come negli allenamenti, immagino perché so che ci sono dei droni che poi controllano anche la fase di allenamento, la parte di GPS eccetera, tutti i giocatori, quindi è uno strumento che sicuramente ben venga in questo ambito. Ci sono nuovi strumenti, smartphone, facebook, ovviamente instagram, whatsapp eccetera, per tenersi in contatto e per fare con loro, per avere con loro un feeling in più. Ma ai tuoi tempi non c'era tutto questo, gli spogliatori come si costruiva? Non erano nemmeno i cellulari, quindi nemmeno gli sms, come si costruiva il feeling fra di voi? Beh, così si parlava tra di noi, oggi è diverso, parlano lo stesso tra di loro, non è che non parlano assolutamente, però credo che seguano un po' la moda, chiaramente seguono anche le loro vicende personali, giustamente, perché oggi il giocatore praticamente è proprietario di se stesso e quindi è giusto che siano sempre al corrente di quello che succede in giro e la tecnologia serve molto. Ai miei tempi, non so, si giocava a carte più che giocare con lo smartphone. Forse si parlava di più. Si parlava di più, però insomma, anche loro hanno l'opportunità, almeno durante il pasto, di parlare insieme, anche perché i telefonini sono vietati. E anche in pool, ma quando ci avviciniamo alla partita sono vietati. E quindi, insomma, in quell'occasione si parla un po' di più. Perfetto, una domanda per voi, invece la tecnologia, cosa ne pensate? Siete tutti giocatori di FIFA, FIFA mi raccomando, perché non vorrei... Di FIFA? FIFA, io gioco FIFA, Call of Duty, Fortnite, insomma PS4, computer, un po' di tutto. Ma riesci a vincere anche? No, no, sì, per quello che ci gioco devo vincere per forza, sennò... Vabbè, ormai adesso va tutto lì, sulla tecnologia, noi spesso il tempo libero lo spendiamo lì, tanto a giocare alla Play, al FIFA e tutti questi giochi che... Ma lo considerate anche uno strumento di allenamento per capire alcune mosse oppure no? Oppure è solo puro gioco? No, 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 serve anche per questo, adesso... Sì, infatti. Per vedere tutti gli avversari basta che entri su una pagina o su un'altra e vedi tutti i movimenti, serve, serve moltissimo. In questi tempi ormai la tecnologia è un strumento che devi usare sì o sì. Perfetto, benissimo, loro rimarranno a disposizione, ha finito il kick off, quindi fra pochi minuti, per farsi delle foto qui sul palco o per chi le voleva fare, ovviamente c'è la security, quindi entreranno minimo sei persone, sono foto di gruppo perché non possiamo, se no arriviamo fino a domani mattina. Io vi ringrazio e ci vediamo sicuramente allo stadio. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. La maglia non ve la diamo, ovviamente. No, ce l'hanno loro la maglia. Prego. Grazie. Grazie Giancarlo. Come?